In occasione del Future Forum a Palmanova una maratona dedicata ai fumetti, protagonista il disegnatore della Disney, Frank Espinosa. Dietro ad un tratto di matita, un disegno o un fumetto ci può essere una storia iniziata inaspettatamente. E' il caso di Frank Espinosa, disegnatore Disney della Bross e papà di Rocchetto, supereroe, ispirato alla vita di Rocchetto Garrison, esploratore e cartografo di fama mondiale, letto da bambini e adulti di tutto il mondo. Espinosa è nato a Cuba ma risiede negli States da quando il padre decise di tentare il tutto per tutto partecipando ad una lotteria che permetteva di vincere l'attuale green card, trasferendosi nella fredda New York. Proprio qui nacque la sua passione per i fumetti. La mia passione per il fumetto è nata quando sono arrivato a New York, da Cuba, da un paese caraibico, una città fredda e sconosciuta. Così mio padre mi diede dei fumetti da leggere. In questo modo è nata la mia passione per i fumetti ed è stata anche utile per imparare la lingua. Da qui è stata l'arte ad afferrarmi e io l'ho semplicemente seguita. Un mondo quello dei fumetti che continua ad appassionare grandi e piccini e che ha portato a Palmanova molti appassionati provenienti da tutta la regione. Una città che secondo Espinosa per la sua forma stella potrebbe essere protagonista di una storia a fumetti dove tutti i punti si connettono per creare un disegno unico. Un'arte quella dei fumetti che continuerà ad esistere grazie ai disegni realizzati a mano. Il futuro del fumetto sta nell'uso delle mani, nel ricreare un collegamento con il nostro corpo. L'esperienza fisica che si può vivere utilizzando un pennello del colore o dell'acqua è completamente diverso da quello che si può provare davanti a un semplice PC. L'esperienza fisica che si può vivere utilizzando un pennello del colore o dell'acqua è un'acqua è un'acqua è un'acqua è un'acqua.